melillo lo scrutava in silenzio quel ragazzo lo aveva colpito subito non si era mosso dalla panca fino a che lui non era arrivato aveva chiesto di parlare con lui e basta aspettare in quel corridoio al primo piano scuro e lungo con una finestra alla fine su un cortile cieco doveva essere già una fatica da poco tutti gli ambienti della palazzina della questura corso europa erano stati ridipinti le stanze erano state per giorni irrespirabili con un odore acre che prendeva alla gola da qualche parte in qualche circolare ministeriale dovevano essere definiti i colori da utilizzare la prima striscia sino a un metro e cinquanta doveva essere di vernice a smalto perennemente grigia la seconda fino al soffitto era di un giallo inconsistente privato di ogni tratto di vivacità il tocco finale del freggio di stucco tra le pareti e il soffitto non riusciva a togliere la sensazione che tutto fosse rimasto come prima melillo aveva rimesso le sue poche cose al loro posto dopo che la stanza gli era stata riconsegnata la scrivania malandata con un pesante vetro segnato e macchiato era stata riposta vicino alla finestra con due sedie accostate anch'esse ridipinte di marrone scuro ma ancora pincolanti un attaccapanni di stile svedese con i ganci leccati neri saldati su un fondale con disegni bizzarri era l'unica novità sul muro di fronte vi era un quadro con una cornice di legno dorata che un giovane carcerato gli aveva regalato raffigurava con leggerezza e precisione inaspettata il ponte di montevergine sul torrente san francesco nell'ombra di un piccolo viale di lecci e tutte le campagne intorno il detenuto lo aveva tratto da una cartolina ora in quel caldo luglio del 1964 di tutto questo non era rimasto quasi più nulla la strada centrale della zona via tagliamento con i suoi alti e informi palazzi signorili segnava la nuova direzione di sviluppo edilizio il ponte era stato abbattuto il viale dei lecci eliminato e il fiume era ormai invisibile stretto tra i fabbricati e ingabbiato in una camicia di cemento mio padre lavorava qui disse il ragazzo voltandosi per seguire lo sguardo di melillo che si era fermato sul quadro si alzò si avvicinò alla parete e pose l'indice in alto in un punto vuoto del muro pochi centimetri sopra il dipinto lì ci sono le officine dell'atra ora sono abbandonate disse subito il commissario da poco lavora alla sita è un tornitore specializzato continuò l'altro annuendo in piedi il giovane appariva in tutto il suo vigore era alto e robusto indossava una maglietta bianca senza collo e un scoperte le dita e i talloni netti e pronunciati come il pomo d'adamo al centro della gula le braccia erano muscolose e ricoperte di peli ma la mano era lunga e affusolata gentile e lo stesso contrasto tra forza e delicatezza si scorgeva nel viso occhi scuri e tristi e labbra grandi senza sorriso dominavano un viso attraversato sulla fronte da una ruga inattesa e da bene tese sotto la pelle eppure la forma del volto era tonda le guance quasi di un bambino e un rossore di timidezza appariva e spariva di continuo nella sua solita ricerca di segni che descrivessero la vita delle persone ce n'era uno che colpì subito melillo prima in piedi ora seduto di nuovo il giovane aveva continuato a stringere le labbra tra l'indice e il medio della mano con il palmo rivolto verso l'esterno era un modo per controllare le parole le emozioni per darsi calma non so ancora come ti chiami disse melillo lo aveva seguito con gli occhi mesi prima quando era stato di vigilanza ad una marcia per la pace che si era snodata da mercogliano ad avellino ma aveva camminato fermo e deciso lungo tutto il tratto con lo sguardo in avanti stretto sotto il braccio con una ragazza da una parte e un altro giovane dall'altra la cosa che lo aveva colpito era stato il contrasto tra l'atteggiamento affettuoso della ragazza bellissima con la pelle d'avorio e i capelli lisci e lunghi che si era appoggiata a lui con tenerezza lungo tutto il tratto continuamente sfiorandolo accarezzandolo e il suo viso serio adulto neppure con l'altro a fianco aveva scambiato una parola ora era lì davanti a lui e non sapeva ancora il perché ma per essere arrivato fino a quella stanza doveva essere accaduto qualcosa di grave importante sull'uscio si affacciò senza bussare il giovane collega marzullo il commissario si volse di scatto lo guardò con occhi di pietra la porta si richiuse perché volevi parlare proprio con me chiese melillo il giovane alzò la testa uscendo dai suoi pensieri e lo guardò con un sorriso gentile perché voi siete interessato al mondo intorno anche il commissario non poté trattenere un sorriso ad un complimento così giusto e inaspettato e che cosa ne sa un ragazzo come te di un commissario come me replicò con tono alto fingendosi cinico lo sanno tutti ad avellino e io vi ho visto vi ho visto l'anno scorso la mattina davanti al liceo quando qualche volta controllavate gli ingressi tante mattine mai un cenno di noia uno sguardo perso sono cose che si sentono queste sono cose che un ragazzo coglie melillo avvertì un moto d'ammirazione trattenuta per quel giovane ma l'espressione del suo volto rimase inalterata dimmi piuttosto perché sei qui lo interruppe qualcuno strombazzava nella strada dal giardino di fronte alle spalle della chiesa del rosario un cane rispose con il solito latrato melillo senza attendere la risposta si era alzato a guardare accostandosi alla finestra aperta a quell'ora di tardo pomeriggio la città riprendeva a respirare si sollevava dal torpore in cui quel luglio così torrido la trascinava qualche finestra dalle persiane di legno accostate si apriva appena di uno spiraglio un fremito lieve di vento tiepido faceva oscillare i rami delle camelie nel giardino di fronte lei era già lì sul balcone dell'ultimo piano a destra al confine con via zigarelli con il cagnolino silenzioso ai suoi piedi e con il libro aperto sulle gambe indossava un lieve vestito di cotone celeste guardava davanti a sé serena e si pettinava carla non è tornata disse solo antonio melillo si era voltato e lo guardava non che dovesse tornare aggiunse il commissario lo fissò con durezza infastidito è andata è tornata non è tornata vai a perdere tempo altrove io non ne ho più per queste sciocchezze antonio si alzò e si verso la porta il cane continuava ad abbaiare lo fermò mentre appoggiava la mano sulla maniglia siediti fammi capire innanzitutto chi è la carla di cui parli e vorrei capirlo anch'io è da tanto che vorrei capire sapere ma carla è di nessuno carla appartiene solo a sé stessa rispose antonio respirò forte e le due dita strinsero ancora le labbra poi continuò si chiama carla delita so solo questo l'ho conosciuta sul pullman a maggio tornavamo insieme da napoli dall'università io leggevo un libretto della bur padrone cane di thomas man l'ho letto anch'io ha detto sedendosi accanto a me e da allora non ci siamo persi di vista neppure un giorno o meglio solo un tratto del giorno sempre lo stesso il vetro risuonò per un'auto che passava un campanello di una bicicletta trillò forte forse rimesso a nuovo nella bottega lì vicino odorosa di gomma e di mastice antonio aspettò che il suono svanisse riprese lei arriva puntuale a casa mia ogni giorno alle tre a quell'ora io sono solo mio padre è già tornato in officina a casa non vuole starci da quando mia madre non c'è più io sto steso sul letto nel buio e so i passi che sta facendo la vedo ad occhi chiusi sin da quando esce dal portone di via asmara dove vive con la zia prima che bussi alla mia porta di via casale so già che è arrivata corro ad aprire la porta poi ritorno nel buio lei entra spesso già iscalza e subito mi dà un bacio volandomi vicino allegra poi apre appena le finestre e si stende accanto a me melillo mentre lo ascoltava era rapito da uno strano pensiero seguiva non quella carla che neppure conosceva ma l'altra la signorina con il cagnolino sul balcone di fronte la vedeva scorrere sotto i platani camminando sul bordo del marciapiede passare davanti all'istituto magistrale evitare la cappa di caldo del corso appoggiandosi al filo d'ombra che cominciava a nascere sul marciapiede a sinistra l'immaginava che facesse risuonare con la chiusura di metallo della sua borsetta le cancellate del convitto nazionale ora era già davanti al cinema giordano che a quell'ora apriva le vetrate delle due porte sulla strada accaldata si soffermava sul manifesto grande del film sul tabellone centrale solo un attimo già aveva oltrepassato la caserma dei carabinieri e i semafori di via matteotti senza curarli sbirciava nel portone semichiuso del circolo della stampa fuggiva con gli occhi sulle lapidi della prefettura svoltava attraversava veloce piazza libertà sfiorava i leoni davanti al tribunale si insinuava nel vicolo del conservatorio e sboccava in via casale fu una macchina da scrivere nella stanza del piano di sopra che non si fermava a riportarlo in quella stanza alla voce di antonio che continuava a parlare io le ho chiesto mille volte di raccontarmi di lei ma lei no vuole solo sentire la mia voce vuole che le legga poesie poesie i grandi classici quando io comincio a leggere lei si allunga sul letto accanto a me e abbassa il volume del giradischi una fonovaligia che è sistemata lì vicino ama solo i beatles e i cantautori c'è un disco che mi ha fatto sentire e risentire mille volte ragazzo mio di luigi tenco lo conoscete melillo continuava a riflettere sulle strane simmetrie tra il mondo di quei ragazzi e il suo anche lui amava i cantautori anche lui era rimasto folgorato da quella canzone di tenco ma non poteva ammetterlo ora lì indurì il tono con un sarcasmo che non gli apparteneva sì ho capito d'estate con il caldo sul letto ad imitare gli amori dei grandi classici fu il fuoco negli occhi di antonio che gli impedì di proseguire no no voi non potete capire questa non è una storia come le altre no la sfioro l'abbraccio la carezzo la desidero tanto ma per ora mi basta e lei si stringe forte mi chiede di leggere ancora l'altro ieri dunfiato le ho letto una poesia di jesienin ho abbandonato la casa natale e tutto nella stanza si è fermato e lei tremava dall'emozione e poi ha corsa via richiudendo gli scuri è sempre così da maggio sempre sempre tranne gli ultimi due giorni ci mancava solo la poesia lo interruppe melillo forse è meglio che andavi via prima antonio ora lo guardava dritto gli occhi stretti rivelavano uno sguardo triste e deluso ho sbagliato a venire voi fate il commissario scorrete le cose le ordinate le analizzate ricercate una regolarità avete ragione ma in me non va così è come se il mio tempo fosse ritmato su carla scorre veloce se lei è con me si arresta e si rivolta quando non c'è melillo pensava al suo tempo irregolare di quei giorni alle cadenze che i suoi istanti assumevano se la sconosciuta ci fosse su quel balcone di fronte o non ci fosse o meglio lei non è con me con me c'è solo il breve tempo del pomeriggio e più nulla concluse antonio ora ti caccio davvero sbottò melillo e ancora una volta si meravigliò di se stesso ma forse è così aggiunse il giovane con un tono più triste forse sono solo fantasie mie forse è andata via da qualche parte la zia non sa nulla come sempre di carla non si fida troppo libera mi ha detto poco fa troppo e poi non è neppure mia nipote ha aggiunto e si è riseduta al suo solito posto a fare la calza senza rispondere a nessuna delle mie domande ma lei da due notti non ha dormito a casa sua io non so come riempire il vuoto della mia stanza e sono convinto che le è accaduto qualcosa tacque all'improvviso si asciugò la fronte sudata la stanza ribolliva di calore ora vado via davvero arrivederci e scusatemi di avervi importunato uscì melillo rimase fermo in dissidio con se stesso si chiedeva perché non avesse agito con la solita calma secondo la consueta ricerca di ordine e di senso non capiva perché quella storia lo avesse turbato perché avesse reagito così rimaneva fermo e guardava la foto di sua madre sulla scrivania che gli sorrideva felice